nella sua chiesa. Domenica 27 settembre la statua del santo predicatore ha lasciato la chiesa di Maria Santissima di Valle Radice per tornare nella chiesa di San Vincenzo Ferreri restaurata e restituita ai fedeli. La chiesa di San Vincenzo Ferreri danneggiata gravemente dal terremoto del 16 febbraio 2013 fu chiusa con ordinanza comunale in quanto inagibile. Nel 2016 grazie all'impegno delle famiglie Guglietti e De Gasperis originarie della contrada di San Vincenzo Ferreri a Sora ma emigrate in Canada è stata costituita in Canada la società San Vincenzo Sora Corporation che ha proceduto all'acquisto dell'immobile dalla famiglia Carrara ed ha finanziato il restauro completo della chiesa iniziato nel dicembre del 2017 e terminato ad aprile del 2020. Dopo un momento di preghiera con il parroco Don Francesco Cancelli la statua sistemata su un mezzo di trasporto è stata portata in segno di benedizione per le vie della contrada. Nonostante la pioggia l'arrivo della statua è stata accolta dai fedeli con gioia ed emozione in tutta la zona lungo le strade infatti sono stati allestiti numerosi altari con fiori fuochi di artificio e palloncini. La statua di San Vincenzo Ferreri dopo aver percorso le vie dell'intera contrada è stata portata in processione dal comitato giovani di San Vincenzo fino al piazzale antistante la chiesa accolta festosamente dai fedeli. Direi gioia ma anche emozione come abbiamo potuto vedere dal volto di tante persone che ho davanti alle case mentre San Vincenzo passava per tutta la contrada ho raccolte qui davanti alla chiesa hanno diciamo così testimoniato questo attaccamento questa devozione così forte verso San Vincenzo che qui è venerato e che finalmente dopo più di sette anni è tornato in questa sua chiesa chiesa che a lui intitolata meglio la chiesa intitolata alla Sacra Famiglia ma conosciuta come chiesa di San Vincenzo. Ebbene possiamo dire che è stato un miracolo nell'insieme anche se è durato qualche anno perché una vicenda che inizialmente sembrava di difficilissima soluzione poi proprio attraverso l'ispirazione di San Vincenzo che in particolare gli emigrati di Toronto e dico qui in primis le famiglie Voglietti e De Gasperis hanno accolto si è potuto risolvere questo problema e quindi procedere all'acquisto della chiesa e successivamente a questa magistrale sistemazione con un restauro veramente eccellente e quindi una degna casa di Dio ad onore di San Vincenzo ma soprattutto per questa comunità che qui ormai trova il suo ruolo, ritrova il suo ruolo di aggregazione, di crescita, di cammino spirituale nella vita cristiana in sintonia con la chiesa, con il nostro vescovo Gerardo. Nel pomeriggio il vescovo della diocesi di Sora, Quino, Cassino e Ponte Corvo, Monsignor Gerardo Antonazzo, ha celebrato alla presenza del parroco Don Francesco e di numerosi sacerdoti del presidente del consiglio comunale di Sora, Antonio Lecce e di molti fedeli la santa messa in onore di San Vincenzo e di ringraziamento per tutti i benefattori. Durante l'omelia il vescovo Gerardo ha ringraziato quanti si sono impegnati per restituire alla comunità una chiesa restaurata in maniera eccellente invitando tutti i fedeli a vivere la riapertura della chiesa come un'occasione di rigenerazione anche nella fede di ognuno. Se noi entriamo in questa chiesa senza nessuno diciamo che è bello e davvero grazie a tutti coloro che hanno restituito a una bellezza non solo ristrutturata ma profondamente recuperata e esaltata come architettura come espressione d'arte di ogni in ogni ambito in ogni elemento ma non è tanto bella questa chiesa come qualunque chiesa senza coloro che dentro vi pregano per i divini misteri. Oggi è veramente bella nella sua pienezza le pietre e le persone. Noi entriamo durante i nostri giri turistici anche religiosi vediamo entriamo in tante chiese cattedrali, basiliche e diciamo che sono veramente belle. Non hanno una bellezza piena senza i fedeli che ivi celebrano la fede nel Signore Risorto. Allora questa nostra celebrazione mi parte che porti a compimento coroni e dia significato alla bellezza di questo luogo. Dunque non senza di noi che però in qualche modo dobbiamo ripercorrere tutto l'iter non burocratico né materiale ma interiore di ristrutturazione nostra. La pietra è stata abbellita, recuperata e anche ben decorata. La pietra ma la nostra anima, il nostro cuore, la nostra coscienza è stata ristrutturata. C'è stato un architetto che ne ha guidato i lavori e ne ha eseguito l'opera e Cristo è l'architetto di ogni redenzione, non diciamo redenzione. La redenzione è una ristrutturazione, è un risanamento, ma dalle fondazioni della nostra vita siamo rigenerati a una vita nuova con la misericordia di Cristo Signore. Al termine della celebrazione il Comitato Giovani ha voluto ringraziare i benefattori canadesi che hanno permesso il restauro della chiesa, che a causa della pandemia da covid non sono potuti essere presenti fisicamente e tutti coloro che in ogni modo hanno contribuito alla riuscita della giornata di riapertura. Evviva San Vincenzo!